L'ex del prossimo confronto, Notaresco Avezzano, poi parleremo anche della sua storia ad Avezzano perché ci vorrebbero in realtà due giorni per raccontare tutto. Buongiorno intanto a Stefano De Angelis. Parliamo intanto del Notaresco perché è davvero la splendida rivelazione ma direi a questo punto certezza del campionato. Siete terzi a tre punti dal Matelica, si deve recuperare una partita. Non subite neanche più gol nelle ultime quattro, zero al passivo. Questo infatti me lo stai facendo notare tu. Sì, è una bella soddisfazione soprattutto per una squadra giovane come la nostra. È un dato di fatto, queste ultime quattro partite siamo riusciti a essere più concreti magari cosa che ci è riuscito meno nel periodo di novembre-dicembre però fa parte di un percorso di crescita e in questo momento stiamo bene ci sta girando anche bene, perciò bisogna dare atto alla dea bendata che ci vuole nel calcio. Piedi per terra. Ma voglio dire, il secondo posto l'ha portata. Ci sono squadre secondo me sulla carta ma non perché uno per Scaramanzia perché hanno qualcosa in più di noi a livello di qualità, di esperienza. Questo non vuol dire che siamo una squadra che è rimissiva anzi, noi ogni domenica ce la giochiamo alla pari, abbiamo rispetto di tutti però è una nostra caratteristica quella di cercare di fare sempre la partita al massimo nelle nostre potenzialità e questa è una squadra che ha dimostrato anche di avere potenzialità tecniche importanti. È oggettivo senza dubbio il risultato attraverso il gioco. C'è un'idea ormai molto chiara quando gioca il Notaresco, una squadra che fa divertire. Notaresco Avezzano, abbiamo detto tu sei un ex importante, hai vinto da giocatore nel 96-97 se non vado errato con Petrelli in panchina, il campionato di C2 c'era anche Alessandro Delgrosso con te, compagno di squadra, hai vinto anche da dirigente ad Avezzano, insomma tanti ricordi. Sì, ricordi sono stati anni importanti, c'è stata anche la parentesi della Valle del Giovenco perciò di Riffa di Raffa sono 10-11 anni di fila che ho lavorato a Avezzano perciò è una città a cui ci tengo, sono rimasto legato, ho ricordi stupendi sia dal punto di vista lavorativo che affettivo, perciò è una partita particolare, conosco tutti. Ogni volta che ci rincontriamo, che le strade si incrociano, lo faccio sempre un grande piacere. A proposito, Gianni Paris, secondo alcuni rumors che abbiamo anticipato con il nostro Enrico Giancarli è attratto dalla prospettiva L'Aquila. Questo me l'hanno detto, io lui è un po' che non lo sento, però sono rimasti in ottimi rapporti è un passionale, è sempre un punto interrogativo, perciò è sempre capace di tutto. Ti ha sorpreso la decisione di mollare di Gianni Paris lo scorso anno, un grande campionato semifinale play-off, quest'anno squadra praticamente confermata, è anche puntellata pronti via se voglia. Sorpreso sì, perché lui è un passionale, è uno che ci tiene veramente alla squadra, perciò sicuramente mi ha sorpreso perché non pensavo che lasciasse, però magari dovuto anche il fatto che ha tentato, come si dice, il tutto per tutto, quello di vincere il campionato e trovarsi magari in una situazione di classifica non preventivata, magari, non lo so, gli ha fatto cambiare le decisioni in corso, questo è quello che penso perché a bocce ferme non ci avremmo scommesso neanche un euro. Tanti talenti che hai scoperto, abbiamo parlato di Lewandowski, possiamo prefigurare un futuro importante per questo ragazzo, soltanto classe 96? Lewandowski l'ho avuto un anno con me, perciò lo conosco bene, per me è un portiere, come vi dicevo, che ha grandi mezzi, dove possa arrivare non lo so, sono contentissimo che abbia trovato il suo spazio a Teramo, in cui è una piazza a cui tengo perché ci ho giocato tanti anni, sta dimostrando il suo valore, è un ragazzo che si allena umile, perciò io quando incontro un ragazzo umile e che lavora come lavora lui, che ha anche i mezzi, gli auguro le migliori fortune. Sei stato a Teramo tanti anni, era malavolta se non vado in rato? L'ho conosciuto la prima volta, giocava a Vezzano, lui era entrato nel calcio con la Tonini come sponsor, perciò l'anno dopo sono nato da lui, perciò sono i primi anni, sono nato con lui, c'è stato un grandissimo sempre rapporto con lui, la famiglia, con il padre, perciò ho un grande ricordo di malavolta romano presidente, ma soprattutto di malavolta romano uomo. Proprio sulla partita di domenica, a Vezzano stagione complicatissima, senza ombra di dubbio, però è una squadra sempre viva, tra l'altro completamente rifatta a dicembre. Sì, io l'ho vista Pineto, perciò è una squadra che vinceva 3-1, perciò è una squadra molto viva, pericolosa, ha cambiato magari i suoi obiettivi di strada facendo, per varie vicissitudini, perché le annate purtroppo possono anche nascere male nel calcio, non sempre, avevano una squadra secondo me sulla carta la migliore del girono insieme al Cesena, perciò nonostante tutto a dicembre hanno dovuto cambiare tutto e hanno fatto come dicevi una squadra nuova, è una squadra pericolosa, poi quando cambi obiettivo che ha bisogno di punti di salvezza sono sempre partite insidiose e noi abbiamo grande rispetto di queste partite, perché sia con Castelfidardo che con l'Agnonese abbiamo avuto tante difficoltà. Tra l'altro l'Avezzano terz'ultima in classifica, 21 punti, Notaresco ne ha 40, dov'è l'errore? L'errore no, sono le annate, noi abbiamo avuto la fortuna di partire bene, di prendere entusiasmo strada facendo, l'Avezzano ha avuto magari andato incontro, magari invece a qualche delusione all'inizio e poi quando cominci a avere delle cose negative non è mai facile rialzarsi, perciò sono annate che nel calcio purtroppo non si può mai dire quello che ti aspetta durante un campionato, succede, sono obiettivi che cambiano, però loro sono sicuri che conoscendolo caratterialmente lotteranno fino alla fine e raggiungeranno l'obiettivo. Liguori, altro bel talentino puro direi, classe 99 del Notaresco ex Pescara, resterà a Notaresco oppure no, perché ci sono le sirene da Catania? No, questo fa piacere perché vuol dire che il lavoro fatto dalla società è ottimo, perciò quando c'è una richiesta per i nostri ragazzi è sempre un piacere, l'intenzione della società, come ha detto il Presidente, è quello di tenere tutti, di rimanere fino a giugno, poi vedremo cosa succede fino al 31, noi abbiamo già detto il nostro pensiero quello che la squadra vorremmo che rimane questa fino alla fine, però dipende, poi ci sono anche le aspettative del ragazzo, vediamo cosa succede, però per adesso Liguori rimane con noi, siamo contenti che rimanga. De Angelis che cosa farà al prossimo anno? perché insomma si sta mettendo in luce, ormai sono credo 5 anni di ottimi risultati da DS, salto di qualità? Questo non dipende da me, vediamo, per adesso guardo il Presidente, l'importante è continuare a fare bene quest'anno, poi vedremo cosa ci riserverà al futuro. C'è già qualche squadra che insomma ti guarda con un certo... No, no, noi siamo... ...un occhio attento, guarda il tuo lavoro. No, questo non lo so perché io sono uno poco, come dico, poco social. Lavorare in silenzio e fare i fatti. Vabbè, questo dipende anche, non è il mio modo di fare, il mio carattere è sempre stato questo anche da giocatori, perciò non penso perché uno debba cambiare con il passare degli anni, mi sto invecchiando un pochino, barba bianca, perciò vediamo, vediamo che succederà.